Ciao ragazzi, finalmente ci siamo! Stiamo per partire con il nostro centro estivo, estate da favola! Passeremo insieme 5 settimane, scoppi e tanti! La prima settimana sarà la settimana dell'incontro. Ci conosceremo, conoscerete i vostri educatori e insieme, in piena sicurezza, faremo un sacco di attività. È da troppo tempo che non vedete la vostra scuola, è da troppo tempo che non state insieme e questa sarà una preziosa occasione per voi. La seconda settimana sarà la settimana del talento. Musica, danza, teatro, creatività, sport saranno i temi delle nostre attività. Da Oscar! La terza settimana sarà dedicata allo sport! Calcio, pallavolo, basket, tennis, atletica, sport di gruppo, sport singoli e chi più ne ha più ne metta. Perché lo sport allena il vostro fisico ma anche la vostra mente. Perché lo sport vi fa sentire uniti. Perché lo sport porta a grandi risultati personali. Perché lo sport educa al rispetto e all'onestà. Perché lo sport è davvero per tutti e non solo per pochi. Perché lo sport educa all'aiuto. Perché lo sport costruisce nuove amicizie. E noi educatori lo sappiamo bene e saremo con voi in nuovi, importanti conquisti. Questo è un art attack. Questo è un art attack. Questo è un art attack. Questo è art attack. Cosa succederà nella quarta settimana? Beh, semplice. Diventeremo tutti artisti. Che cos'è un artista? È colui che dà libertà alla propria creatività. Sarà per noi la settimana della creatività. musica, musica, musica e ancora musica. Realizzeremo insieme un vero e proprio show. Sì, ok, ma come lo chiamiamo? Ci sono Amici di Santo Stefano Balleremo e canteremo e davanti a voi ci sarà una vera e propria giuria di qualità. E che vinca il migliore. Ehi, ma aspettate, ma la festa finale? Durante quest'ultima settimana penseremo, creeremo e realizzeremo insieme la festa finale. Venerdì 31 luglio vi aspettiamo perché vogliamo mostrarvi i frutti di questa incredibile esperienza. Il tutto nel massimo rispetto della sicurezza per i vostri figli e per voi. Noi siamo carichi e abbiamo voglia di conoscervi. Abbiamo voglia di farvi divertire. E perché no, anche di insegnarvi qualche trucco da veri educatori. Non ci resta che aspettarvi da lunedì 29 giugno. Per l'inizio del centro estivo, un'estate da favola!